Amici a scoccorrere, ben ritrovati! Come state? Oggi vi parlo finalmente delle Nike Pegasus 38! Siamo già arrivati alla versione 38 di questa scarpa pazzesca, con 38 anni di storia! Beh, sapete, se mi seguite da un po' che io sono un amante di questa tipologia di scarpa della Pegasus. Le ho avute veramente... non dico tutte perché non corro da 38 anni, però... La versione 38 penso sia la mia decima versione, o giù di lì, e è una scarpa che utilizzo veramente tanto, spesso e un po' per tutto. Perché questa è una scarpa che va bene un po' per tutto, sia per gli allenamenti più corti, gli allenamenti più lunghi, quelli più veloci. Insomma, è una scarpa veramente che si adatta un po' a tutte le caratteristiche. Vi racconto la recensione dopo 400 circa chilometri, quindi ho già fatto un bel po' di strada con queste scarpe! Partiamo come sempre dalle misure 27 e mezzo di tallone, 17 e mezzo di avampiede, per un trop totale di 10. Misure simili, anzi in questo caso misure identiche, alla versione 37. Peso? Non siamo assolutamente contenti del peso! 306 grammi nella mia versione 44! Ebbene, sì amici, questa scarpa ha preso un sacco di grammi rispetto alla sua edizione precedente! Infatti, la Pegasus 37, nella mia misura, pesava 289 grammi ed ero sinceramente contento del peso! Questa versione qua ha preso un po' troppo peso per i miei gusti e adesso vi spiego anche dove e perché! Ed andiamo così a parlare subito della Tomaya! Ecco, rispetto alla versione precedente ho notato che la Tomaya è molto più soffice, c'è più materiale, È un pochettino più spessa e penso che proprio la Tomaya è quella che ha fatto appesantire la scarpa di qualche grammo Secondo me troppi, come dicevo prima Però è anche vero che la Tomaya in qualche maniera è diventata molto più soffice, molto più comoda, ancora più avvolgente di prima È una Tomaya in mesh ingegnerizzato con una linguetta con un design molto particolare, un pochettino stretto nella parte centrale Per poi diventare di nuovo larga nella parte sopra, creando così una sorta di ala Che devo dire è molto comoda quando si allaccia la scarpa Si sente proprio una buona sensazione di piede che viene ben avvolta anche nella parte superiore La linguetta è ancora più spessa rispetto alla versione 37, anche qui ho notato più materiale, un pochettino più robusta Però devo dire che non c'è un gran cambiamento nella sensazione del lockdown del piede Diciamo che è molto simile alla 37, nonostante queste grandi modifiche su tutta la Tomaya Quello che ho riscontrato è sicuramente più morbidezza, il che non è male Però vale la pena questa morbidezza? Ne valeva la pena veramente per così tanti grammi di differenza sul peso? Secondo me no Per quanto riguarda l'intersuola, è praticamente identica alla versione 37 Non c'è alcun cambiamento, abbiamo sempre la nostra bella schiuma in React Abbiamo sempre le nostre sacche di Air Zoom con pressione diversa tra la scarpa maschile e femminile Ma non cambia assolutamente nulla, né nella misura, né nella quantità di materiale utilizzato Né nella tipologia di materiale, è praticamente un copia in colla della versione 37 di questa scarpa Che secondo me era già soddisfacente, era già buona Quindi hanno fatto bene, secondo me, a non cambiare troppo Neanche il design è cambiato, veramente la parte dell'intersuola è identica Per quanto riguarda la suola, anche questa è praticamente un clone della versione 37 Non sono state fatte modifiche in alcun tipo Abbiamo gli stessi materiali, abbiamo le stesse tipologie di protezione E devo dire, io con l'altra scarpa ci ho corso alla bellezza di 1000 km senza avere segni importanti di usura Questa è una scarpa da 400 km circa e come vedete la suola è praticamente perfetta Non ci sono segni di usura, veramente sta tenendo molto bene Il grip è rimasto ottimo, esattamente come la versione 37, essendo praticamente la stessa suola C'è poco da dire Indossabilità, devo dire che questa è una scarpa che si indossa abbastanza bene Quindi con la propria misura, io indosso sempre la 44 e non ho trovato problemi È sempre una scarpa un pochettino stretta in punta Secondo me stesso problema che ho riscontrato anche con la 37 Avvolge parecchio il piede Quindi bisogna, insomma, non a tutti piace avere il piede bello avvolto dalla scarpa A me sinceramente non dispiace Anche se ho notato che nelle giornate più calde come in questo caso Dove le temperature qua a Londra sono alzate un bel po' Ecco, con il piede che si gonfia, diciamo, forse un po' troppo E ho notato proprio che questa, che è proprio questa tomaia ridisegnata Un po' più spessa, un po' più importante, diciamo così Ecco, forse d'estate non dà proprio il suo meglio Appoggio e spinta non cambia nulla rispetto alla versione 37 Quindi se conoscete quella scarpa identica Andate poi a rivedervi anche la recensione di quella scarpa dell'anno scorso Comunque è un appoggio abbastanza comodo Una spinta abbastanza reattiva ma non esagerata Non così tanto come Nike ne parla spesso sul suo sito Durata, questa è una scarpa che può benissimo arrivare Agli 800 km, 1000 km Io ce ne ho corsi 1000 senza problemi Ho buttato via la 37 perché mi ha dato un po' di problemi di usura Nella parte della conchiglia qua, nella protezione del tallone Ma quella è più che altro colpa mia Perché sono abituato ogni tanto a togliere le scarpe senza slacciarle E quindi questo può creare poi dei problemi di usura Quindi più per il mio comportamento che la scarpa sia usurata Sono altrimenti poteva andare anche oltre secondo me ai 1000 km Ovviamente era un po' più scarica verso la fine della vita Questa schiuma in React un po' ne risente Però devo dire nessun problema Ma anzi è una scarpa, è un buon investimento Costo 119 euro, anzi si trova anche a 109 da qualche parte Metterò poi qualche link sotto in descrizione Così insomma se volete comprare attraverso i miei link Ci guadagno qualcosina con i link dei partner affiliati È un prezzo pazzesco, secondo me ottimo Soprattutto per la tipologia di scarpa Si possono fare davvero tante cose con questa scarpa Che come dicevo prima si adatta un po' a tutta la tipologia di corsa Quindi assolutamente, veramente soddisfatto del prezzo Per cose e per chi è una scarpa che come dicevo prima Va bene un po' per tutto Io ci ho fatto anche qualche trail, la devo dire È una scarpa che non è leggerissima Quindi forse non è per la prestazione Non è per le temporane, per le ripetute È più per probabilmente i lenti Magari anche quelli un po' più allegri Però è una scarpa che in realtà può fare un po' tutte le mansioni Quindi se volete comprare un paio di scarpe unico per tutti i vostri allenamenti Anche se io lo sconsiglio, come sempre vi dico Meglio avere almeno un paio di scarpe da intercambiare Però questa è una scarpa che veramente si adatta un po' a tutto Come sempre gli ho dato un punteggio È un punteggio più basso rispetto alla 37 Ve lo dico già Ha perso quasi mezzo punto E questo è il mio punteggio Tomaia 7,5 Peso 5,5 Non sono assolutamente contento del fatto che questa scarpa abbia preso peso E quindi per questo un voto negativo Comfort 7,5 Appoggio 7,5 Grip 7,5 Non ho da dire Durata 8 Questo è sicuramente uno dei punteggi migliori per quanto riguarda la durata Costo 9 Perché veramente qualità prezzo spettacolare Punteggio finale per me 7,5 La versione 37 aveva qualche decimo di punto in più Semplicemente perché aveva un peso minore E anche la Tomaia sinceramente quasi quasi preferivo Quella vecchia Quindi questa è una scarpa quasi identica Leggermente più pesante Qualcuno dice che è più comoda Grazie a questa Tomaia rivista Io sono un po' scettico insomma È una scarpa che però può andar bene Per chi ama i drop un pochettino più alti Come preferisco avere io almeno in rotazione Una scarpa da 10 mm di drop E questa sicuramente fa il suo lavoro Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così mettete un like Mettete anche un commento Fateci sapere come vi trovate voi con le vostre Pegasus Se avete Girola 38 Se conoscete le 37 Insomma diteci la vostra opinione Detto questo ricordatevi Correte e fate l'amore Ciao Ciao